Ciao a tutti, sono Giuseppe Di Grande. Continuo l'analisi di accessibilità e usabilità di alcuni siti di utilità, così chiamiamola pubblica, come giornali e così via. Oggi voglio analizzare, andare a vedere un po' il sito di Repubblica, il quotidiano nazionale. Andiamoci. Quello suonetto indica che c'è qualcosa che il mio browser ha bloccato perché io ho configurato alcune restrizioni qui. 101 intestazioni e 600 erotti link. I link sono sinceramente un po' troppi, però che ci siano delle intestazioni fa ben sperare. Anzi, io già l'ho controllato prima, quindi so più o meno come è strutturata questa pagina. Volevo dirvi che l'obiettivo di questi video non è tanto analizzare l'intero sito di Repubblica, del fatto quotidiano, dei giornali, di siti, delle pubbliche amministrazioni. Questo non è il mio obiettivo. Il mio obiettivo, in questo caso per il sito di Repubblica, è quello di un comune lettore, lettore di giornali. Cioè andare a individuare l'articolo che mi interessa o andare a sfogliare gli articoli che mi interessano e andarli poi successivamente a leggere e trovare facilmente i contenuti da leggere senza andare a impazzire tra frame, elementi, link e robe varie. Allora, siamo nel sito di Repubblica, già il lettore di schermo, io sono non vedente, il lettore di schermo mi ha segnalato che ci sono 101 intestazioni e quindi fa ben sperare, quindi premo la lettera H per vedere se queste intestazioni siano veramente posizionate nel modo adeguato. Crediti imprese, arriva il decreto e spunta all'aumento dell'IRCF subito, livello di intestazione 1. Pare di sì, perché già sono al primo articolo di questa home page, che è appunto il livello di intestazione 1, link, credit, imprese. È al primo livello, riguarda credit, imprese eccetera eccetera. Livello di intestazione 2, link, imprese, IRCF 55.831.000. Poi c'è un titolo al secondo livello subito dopo, diciamo che qui i titoli, cioè i tag H1, H2, H3, H4, H5, H6, non sono utilizzati nel modo opportuno, perché sotto il titolo di primo livello c'è subito un titolo di secondo livello, ma i titoli non si usano così. Comunque, questo è una cosa marginale, no? Una cosa più tecnica che funzionale. Saggi in carica 55.795.620 bersani. No a voto è governissimo Saggi. Questo è un altro articolo, quindi io con la pressione della lettera H mi sto spostando di articolo in articolo, anche se ci sono le intestazioni di secondo livello che sono stati utilizzati in modo inappropriato, secondo me. Però andiamo a vedere... Ok. Qui i titoli, non so se volontariamente o involontariamente, sono stati utilizzati più o meno correttamente dal punto di vista funzionale della pagina, ma sono stati utilizzati impropriamente per organizzare un po' il layout dello schermo, no? Perché il titolo di H1 fa un carattere un po' più grandicello, no? Il titolo H2 è un po' più piccolino, il titolo H3 è più piccolo ancora, il titolo H4 è ancora più piccolo, eccetera, eccetera. Cioè sono stati utilizzati per organizzare il layout visivo. Solitamente, visto che ci sono i CSS, gli elementi di titolo si utilizzano, così come tutti gli altri elementi, no? Si utilizzano nel modo più appropriato per strutturare la pagina ai fini della lettura e poi, eventualmente, se ci sono degli abbellimenti da fare, anche questi elementi di titolo possono essere utilizzati per organizzare il layout della pagina, ma non devono essere utilizzati in modo inopportuno oppure abusarne nella pagina. Inopportuno significa mettere un titolo H1 e al di sotto, subito al di sotto, metterci un titolo H2. Questo, diciamo che è un po' dovuto all'inesperienza, perché un titolo introduce qualcosa, ma non può introdurre un altro titolo. Così, che poi sono più che altro titoli con all'interno dei link che puntano agli articoli veri e propri, no? Un titolo H1, se utilizzato, introdurrà un testo, breve o lungo, che descriverà qualcosa, no? Eventualmente il titolo H2 si utilizzerà dopo all'interno di questo titolo, ma il titolo deve... 1% Ai, 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 qui qualcosa si è aggiornato, no? 100% Quindi c'è un aggiornamento automatico della pagina, il lettore di schermo mi ha indicato, la pagina si sta ancora aggiornando. Questo non è molto buono, comunque è passabile. La Repubblica, appunto Andiamo a vedere l'articolo vero e proprio, che cosa contiene. Basta La Repubblica Questo è l'effetto dell'aggiornamento automatico, no? Che improvvisamente la pagina tenta di aggiornarsi, o si aggiorna, e il lettore di schermo risponde di conseguenza. Queste percentuali che avanzano è la difficoltà del browser di caricare le pagine, infatti va molto lento, o perché c'è qualche immagine, oppure perché c'è qualche problemino nel server del sito che rallenta la richiesta di pagine e dati da parte del client. La Repubblica Il client è il nostro browser, il server è quello dove sta Repubblica, ok? Credit imprese arriva il decreto Andiamo qui, lasciamo stare le percentuali che avanzano, queste sono magari dovute a dei frame che tentano di aggiornarsi e non ci riescono. Magari sono dei frame di Facebook, Twitter e roba varia che rallentano un po' tutto, come ho già detto ieri, nella accessibilità e usabilità del fatto quotidiano, no? Andiamo a questo titolo Ok Superiamo la home page e andiamo a leggere il primo articolo, credit imprese, eccetera, eccetera Aumento e IRPEF Maledizione, mi interessa Purtroppo Ok Credo che l'articolo sia caricato, mi ha detto 100% No, l'articolo non è caricato, c'è qualcosa che impedisce, ecco, c'è qualche frame di troppo, ecco, un frame di Twitter Il frame di Facebook che si aggiorna Sono tutti i rallentamenti dovuti ai frame, quindi rendetevi consapevoli quando aggiungete un frame al vostro sito Perché il frame punta ad una risorsa esterna e la risorsa esterna non la controllate voi La controlla Facebook, la controlla Twitter, la controlla YouTube, la controlla Google E se Twitter, Facebook, Google e YouTube sono occupati O al momento sono occupati Vi rallentano un po' tutto Credito Anche se voi visivamente vi accorgete poco di questo Allora, siamo nella pagina dell'articolo, no? Andiamo a premere subito la lettera H Vediamo se la pressione della lettera H in qualche modo ci porta ai contenuti che noi vogliamo leggere Visitatorepubblica.it livello di intestazione un link Intanto qui c'è un'intestazione di primo livello con il titolo della pagina Così, vabbè, superiamo Economia e commerciale finanza con l'overregister di livello di intestazione due link Livello due Introduce l'autore o la testata, boh, non lo so come definirla Che forse ha scritto l'articolo Ricerca titolo livello di intestazione uno Qui c'è un'altra intestazione al primo livello per cercare qualche altro articolo Crediti imprese, ecco il decreto Conta all'aumento del livello di intestazione uno E qui c'è il titolo del nostro articolo Ci fa ben sperare, no? Andiamo a vedere se ieri nel sito del Fatto Quodidiano c'erano un sacco di frame Io qui l'ho controllato prima, vi dico subito che qui più o meno siamo in condizioni un po' migliori rispetto a quelli di ieri, no? E quindi, scendiamo giù con la freccia, vediamo Livello di intestazione una spunta all'aumento dell'IRPF Anche se non c'è un elemento vero e proprio da raggiungere per andare al contenuto, cioè all'articolo vero e proprio I link, gli elementi da superare in questa pagina, cioè dopo il titolo di primo livello che ci introduce l'articolo Sono meno rispetto a quelli di ieri Livello di intestazione 3, anche il Movimento 5 Stelle firma la risoluzione di partizia Qui c'è sempre l'uso un po' scorretto dei tag H1, perché non mi piace usarli così Perché li utilizzano esattamente come titoli, come intestazioni Io preferirei utilizzare dei semplici paragrafi, magari con qualche indentazione particolare Con qualche identificativo di qualche classe particolare, no? Che ne gestisca il layout Perché, sì, sono elementi da legge Livello di intestazione 3 di Roberto Petrini Qui c'è un'altra intestazione che introduce l'autore L'autore dovrebbe essere, diciamo, introdotto da altri tag, piuttosto che dai tag di titolo, no? Link lo leggo dopo Lo leggo dopo Grafico crediti imprese, ecco il decreto Spunta all'aumento del link Grafico Mario Monti Mario Monti Elenco di tre elementi Non mi piace Mario elenco di tre elementi Elenco, c'è un elenco, vediamo cosa contiene Approfondimenti Ah, questo è l'elenco degli approfondimenti per approfondire l'articolo Io li metterei sinceramente dopo Dopo i contenuti, gli approfondimenti Perché prima si legge l'articolo Gli approfondimenti vengono dopo Magari nella posizione visiva della pagina Li lasciate nella stessa parte di schermo Ma come sequenza di tag HTML Io li metterei dopo l'articolo Perché uno legge l'articolo Poi approfondisce con altro Altrimenti chi legge l'articolo E al di sotto dell'articolo non trova nulla Non approfondisce più con niente Quindi magari va via dal vostro sito, no? Queste sono alcune piccole strategie, no? Questi sono articoli di approfondimento Per approfondire ancora Ci sono sempre i titoli utilizzati così Sapete perché non è utile inserire dei A parte che è improprio, è proprio un errore Inserire dei tag H1, H2, H3 all'interno di un elenco Non si fa Questo è un errore proprio di HTML Non si fa proprio Nivello di approfondimento Nivello di tre elementi Ci sono tre elenchi Qui, in questo elenco Basta utilizzare dei semplici elementi Degli item, no? Dell'elenco Degli elementi dell'elenco Non Elementi Accompagnati da titoli Perché il blocco La sequenza dei blocchi Tra titoli E Elenchi Sta allo stesso livello E quindi è improprio utilizzarli così Nivello di fine elenco Ok Fine dell'elenco Per fortuna Enrico di due elementi Ancora Tag Qui c'è un altro elenco Con dei tag Link Debiti pubblica amministrazione Link Crediti imprese Link Consiglio dei ministri Presumo che questi link Puntino O facciano una ricerca automatica Su questi tag Che man mano sto scorrendo Link Link Addizionale Regional Fine elenco Roba Oggi il governo Monti improrogato Vara il decreto Per sbloccare i 40 miliardi Di debiti Che lo stato Ha approvato Arriveranno alle imprese Finanziati portando il deficit Ok E qui c'è il contenuto Cioè abbiamo superato Un po' Quei link Io li ho commentati Così Ho perso un po' di tempo Però Sostanzialmente Il contenuto Si trova Più facilmente Non dico immediatamente Ma più facilmente Rispetto a quelli Al sito Degli articoli Del fatto quotidiano Crediti Ricapitoliamo Visitato l'economia E ricerca Di credit Imprese Ecco Sono andato all'inizio pagina Mi sono spostato Al titolo Dell'articolo Premendo più volte La lettera H Mentre nel sito Del fatto quotidiano La premevo Una sola volta E raggiungevo Subito l'articolo Qui ho dovuto Premerla più di una volta Però Ugualmente In poche pressioni Ho raggiunto l'articolo Andiamo al contenuto Velocemente Visto che ormai Conosco La struttura Di questa Pagina Ho superato Elenchi Link Intestazioni E roba varia E sono già All'articolo Superiamo l'articolo Vi faccio notare una cosa Che bello Ok Immaginate Che io stia leggendo Qui l'articolo Ok Questo è un articolo Del 3 aprile Cioè di oggi E qui ci sono i frame Per eventualmente Condividere L'articolo Su Twitter Su Facebook E eccetera eccetera No Quei frame Che nel sito Del Fatto Quotidiano Trovavamo Troviamo Prima Dell'articolo Dei contenuti Qui In questa pagina Ad esempio Non danno fastidio Complimenti a Repubblica Per questa scelta No Perché è una scelta Non è un obbligo Mettere i titoli Prima o dopo È sempre una scelta Voi potete giocare Con il layout Delle vostre pagine Come volete Affidatevi a un buon web Master No O una O una buona impresa Non sono io Non mi faccio pubblicità Io faccio altro E Vi consiglieranno Nel modo adeguato La soluzione È così Può essere Una o l'altra O N Infiniti Vi saluto Magari Domani Vediamo un altro Sito Di qualche altro Giornale Ok Spero sia stato utile Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Giornale